ed eccoci qua ed eccoci qua signori che una volta ben ritrovati sui virtuali di BG Esports siamo andati velocemente in questa brevissima pausa per cercare di riassettarci anche un po' con le tempistiche il timing per arrivare velocemente in Champions Select dato che chiaramente noi non siamo regia diretta quindi siamo un po' nel flow come si vuol dire, noi ci accodiamo al flow cavalchiamo il flow da veri surfisti e prendiamo un po' quello che insomma ci arriva, vorremmo essere comunque brevi in Champions Select, abbiamo già ampiamente un po' parlato del in generale sia dell'ecosistema dei vari gruppi del gruppo stesso, di queste due squadre di quello che hanno un po' da proporci quindi non vediamo l'ora chiaramente di vederla a Champions Select di vederla a draft, di vederla un po' le che possono essere magari le strategie adottate quelle che possono essere un po' i pick che si vanno a ricercare lasciare open qualcosa per cercare di prendere qualcos'altro, insomma conosciamo bene perché sono i trade dei power pick del meta stesso, salvo restando che per appunto 12.6, sappiamo che ci sono stati un po' di cambiamenti già il fatto che comunque ecco per riprendere un po' il discorso di un Ekarim inerfato come unica vera nota interessante che si può andare a estrapolare come differenza rispetto a quella precedente delle draft 12.5 è che chiaramente non è più necessario andare a bannare quell'Ekarim salvo qualche pazzo jungler che ancora vuole andare a utilizzare però ecco il ban di Ekarim non è più così presente in una certa percentuale come prima questo lascia quindi a più ban o più possibilità chiaramente di scambio Olaf dal draft perché è anche un po' questo il bello poi ti lascio parola è anche un po' questo il bello di quando si vanno a ritoccare alcuni campioni il buff e il nerf non deve essere necessariamente diretto ci basti pensare a Xayah che senza essere stata direttamente toccata tramite un po' di nerf sparsi quella e altre di Karrim piano piano è diventata una papabile scelta quindi ci sono tanti aspetti quando si vanno a ritoccare alcuni campioni anche non direttamente Olaf per esempio è un bambino assolutamente quella del team BDS nonché ovviamente il team dei fanatic che è so eppure abbiamo uno score di 1-1 un ex-equo tra tutte queste quattro squadre quindi sicuramente saranno due scontri quelli di stasera del gruppo C questo è l'ultimo alle ore 22 circa quello appunto il derby tra le due academy lì sì saranno due scontri sicuramente da andare a seguire ma i bann vediamo quindi Veigar Vex sicuramente e Zeri bannata addirittura lato blu lato T e G invece per quanto riguarda il team dei Bifrost che Dai Masco recupera ovviamente non solo Siboi ma anche il loro ex-coach Dress2Kill vediamo che vengono rimosse invece Yonex Aya e Akali la draft sta andando avanti spedita e per fortuna perché sicuramente si è fatto un po' attendere questa fase di Bicor Ban abbiamo arrivato a parte Volibear e Jinx guarda per fortuna quei 26 minuti di prima ci hanno sicuramente regalato un po' di spazio da recuperare quindi per fortuna ma eccoci ce li abbiamo per punto abbiamo già quel Volibear Jinx vediamo la terza scelta sarà Aatrox per Zero a meno che chiaramente non vuole fare il numero di magia in corsia centrale come si faceva un tempo altissimo vedremo vedremo perché sicuramente può essere un tech possibile vediamo se Brox Q ovviamente può giocare campione di questo tipo è chiaro che ovviamente con quella Ari che è già presente nella loro draft sinceramente non credo proprio si tratti spottare un Ari in top dubito però sai è sempre bello menzionare che ci sono stati quei flex angeliati nel passato in Aatrox Mid magari dei fonti di priorità ma sai qualcuno lo tira ancora fuori specie nei bassi fondi del competitivo italiano c'è qualcuno che lo gioca ancora e sicuramente ti invito a seguire il sottobosco come piace chiamarlo a me ma Sylas Sylas è la selezione lato blu quindi lato rosso ancora una volta abbiamo i team che sono schierati a lato opposto secondo i colori della mappa con il team rosso che è il team che ha i colori sociali blu diciamo così e non solo sta anche draftando una composizione a chiave cromatica blu celeste comunque con quel Jinx con quella Jinx con quel Volleyber con quel Silas ma i ban andiamo a vederli perché abbiamo luce a rimosso a failure quindi grande priorità ovviamente verso la corsia inferiore già selezionato Jinx vuoi togliere quanti più counterpick possibili lato bifrost invece per quanto riguarda i T e G c'è quel top laner sicuramente è quell'altro se quindi vuoi metterlo in una posizione comunque di comfort e vuoi anche togliere da un possibile comfort Jinx con quel trash che lo sappiamo può sopperire come nessun altro supporto alla mancanza di mobilità di altri campioni scusate ma quello è una poppy e sono entusiasta di andare a commentare questo campione perché non so se lo sapevi Eddie ma è uno dei miei preferiti oh questo è interessante vedi abbiamo un pic che insomma oh bene eh vedi 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 per quanto differenza di quel live un po ti ho conquistato con la giacchetta di più nell'NBA ah beh dai quello come dire era facile era facile comunque arriva una Kaisa come stiamo dicendo quando si vanno a bannare priorità come quella Xayah Xayah c'è stato quel momento il 12.4 12.5 a cavallo dove per appunto bannata bannata quella Zeri bannata quella Jinx o bannata quella Felios se Jinx era piccato dall'altra parte o poi era piccato dall'altra parte c'è stato un po questo testa a testa sui ultimi centimetri prima del traguardo tra una Xayah e una Kaisa chiaramente Kaisa con l'istintomicida molto più dive intensifies una Xayah praticamente è l'esatto opposto grazie al tumulto di piume sei ancora più safe è come avere la tec e avere flash e purificazione con Xayah hai 3 escape incredibili cosa che non ti possono chiaramente dire della loro detto questo però ogni tanto Kaisa ancora spunta fuori soprattutto quando abbiamo visto tutta questa concentrazione di bann verso la zona inferiore esatto tra l'altro alcuni se ne scappero fuori con Jin anche con alcuni anche di Jin e poi dal playstyle chiaramente secondo molti sleeper OP anche nel ruolo di tiratori in questo momento è Ash Ash proprio per effetto di nerf appunto agli altri campioni che hanno caratterizzato e polarizzato il meta nelle ultime patch anche Ash proprio perché ignorata e anzi addirittura forse baffata leggermente se non mi ricordo male vado a memoria proprio nelle ultimissime patch poteva essere una selezione lato P&G è chiaro che poteva anche essere buona a livello di big potential perché a livello di team poteva funzionare è chiaro che con Ash sai che hai un po' una macchina di supreme più difficilmente magari ecco una fonte di DPS stabile proprio per la grande immobilità di cui ovviamente Ash si caratterizza appunto con quella assenza veramente di scatti che sono così cruciali nel League of Legends di oggigiorno ma sono due composizioni molto interessanti quelle che abbiamo visto e che ci apprestiamo a vedere scendere sulla landa quella POPI mi incuriosisce moltissimo perché comunque anche contro Kai'Sa un carry da così basso range può funzionare molto bene perché lo sappiamo POPI con quella sua carica eroica se trova il muro trova uno stum e di fatto sai che con la sua presenza ferrea poi ti impedisce anche di utilizzare eventuali scatti per scappare insomma sostanzialmente è un'area di intercettare tutto sommato assolutamente assolutamente sì assolutamente sì e può funzionare molto bene anche in combinazione con Sylas POPI è sicuramente fenomenale ma ci siamo e andiamo finalmente ad ammirare questi due team sulla landa degli evocatori era il match schedulato alle 7 e sono le 7 in punto quindi perfetto orario ci siamo ci siamo ma signori eccoci qua siamo pronti quindi per cominciare tra i ESCA Gaming contro i Bifrost e si inizia adesso si inizia subito con un paio di scambi qui da parte di His Hero e Shikari con sicuramente Aatrox che potrà godere di una buona fase di corsia soprattutto per effetto di un sustain che manca lato POPI POPI che però se riuscirà a sfruttare bene la propria passiva quindi il proprio colpo di scudo e colpo di rimbalzo anche quindi riuscendo a raccogliere appunto lo scudo che POPI va a scagliare contro il nemico in questo caso ecco che POPI ottiene comunque una sua forma di sustain di corsia che può esserle sicuramente utile soprattutto nelle prime fasi per contenere un Aatrox lo sappiamo che poi a lungo andare Aatrox anche con la sua itemizzazione comunque guadagna veramente priorità a meno di sbilanciamenti strani sino dalle prime fasi con un Volibear che sicuramente potrebbe andare a intervenire lì anche se starta dal rosso start a leashless a differenza del jungler del team degli Esca Gaming che parte invece aiutato coadiuvato dalla sua corsia inferiore proprio dal rosso quindi anche un po' di simmetria sicuramente in queste prime fasi di partita con il match up Ari contro Silas non ne abbiamo parlato Eddie perché sta arrivando un gunk livello 2 probabilmente in Boblay occhio ecco qua il dive preannunciato potrebbero provare ancora l'aggressione si ritirano accontentandosi del flash di dual basta e avanza ma contentandosi mica tanto avrebbero voluto sicuramente di più ma l'ancora mancata da Marlon fa sfumare l'intera azione peccato perché sembrava un'ottima occasione questa per mandare subito Kaisen avanti per permettere a Nautilus di andare a intervenire anche i torse centrale per sbloccare un po' tutta la situazione invece nulla di fatto alla fine è un peccato soprattutto ovviamente per i ragazzi degli Aska Gaming che sicuramente hanno cercato il primo acuto senza troppa fortuna e soprattutto senza un ancora corretto da parte di Marlon vero 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 in ogni caso come sempre siamo su quel secondo minuto è 45 quindi chiaramente timing da zona raccolta risorse nulla di più difficile e nulla di più semplice in ogni caso vediamo Zero contro Shikari per Shikari non dovrebbe essere poi così complicato gestire questo Aatrox e per Aatrox sarà una bella bega chiaramente doversi confrontare con questa Poppy dovrà stare attento anche ai trade soprattutto quelli brevi perché Poppy dalla sua ha un trade molto interessante io l'ho sempre chiamato quando vi vedo in quella process superiore ormai non faccio più l'ho sempre l'ho sempre chiamato trade tilterino sì 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 assolutamente il trade di Poppy è creato apposta per farti tuttare soprattutto se sei un bruiser perché sai di poter fare dei danni che generalmente faresti contro un altro bruiser contro tutti altri e ci sta che tu non li faccia contro un tank come Poppy ma non ti capace di poi quando ti metti dietro una bella combo magari anche posizionandosi bene tornando lo stordimento sotto al muro poi ti prende quella W e tu già inizi a guardare in cielo verso qualche dio dell'eSports che non ti capaci di come tu abbia perso metà HP contro un tank però in ogni caso non è nulla di anormale ma è proprio così è il trade tilterino volto a farti tiltare bello questo bravo dual anche solo per tecnicismo per far perdere qualche minion meno bravo forse perché avrebbe voluto intercettare lui quel cercatore del vuoto che ha interrotto crucialmente il recall di Odi in questo caso ma sai sottoscrivo appieno quanto tu hai detto poco fa appunto su su Poppy sulla sua possibilità di trovare trade immediato e aggiungo solamente che non si può scrivere Poppy senza senza tracciare le lettere O e P l'una a fianco all'altra e di conseguenza insomma sappiamo già di che cosa di che cosa stiamo parlando voi scrivete OP in fase di selezione campioni nelle vostre partite cercate appunto le lettere OP vi verrà fuori Poppy proprio per per questo motivo signori e quindi bella ancora qui e finalmente si ingaggia con un'ancorata da parte di un'altra quella ancora lo tustione basterebbe così poco un altro toccato ma dual still alive baby non si molla un centimetro la funzione è ancora lì la ricerca vediamo la lente l'ha sputtata per un attimo c'è si 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 l'ha sputtata per un attimo l'ancora gli ultimi colpi e arriva il primo sangue ma potrebbe arrivare di rimando l'uno per uno ma attenzione perché adesso si arriva vorrebbe provare a fare di più ma un bel po' di tempo perso dal jungler degli esca gaming però è anche vero che comunque stanno tornando ora la Mabecchi il Gromp qualcosina c'è è andato anche a prendere informazioni circa il posizionamento del nostro si vuoi e quindi sicuramente un'azione che qui va mi sento di dire a vantaggio probabilmente di Odi che potrà trovare una fase di scaling più rapida e più repentina all'interno della partita però è vero Xeuner qui ha perso veramente tanto tempo fu lui qui può farsi in avanti anche con la propria suprema mandola a Dari e tra l'altro la la Stisari l'ha già usata ma rivediamo qui l'azione con il minion che muore in quel momento fantastico tempismo questa volta da parte di Marlon e nonostante appunto la spell di Renate in questo caso quest'ultima non riesce a sopravvivere e quindi a regalarsi nuova esistenza in questa landa degli avvocatori dovrà tornare in fontana con un schermo grigio ma nel frattempo è stato anche trovato il primo drago della partita trovato dai Bifrost è di noto con piacere che i problemi che avevamo nelle prime giornate con i draghi si sono risolti sì sì ormai fortunatamente sono stati risolti i problemi per fortuna già possiamo vedere sai comunque sia stavamo parlando stavamo elogiando per così tanto intanto mentre vediamo ovviamente il red buff portato via sottratto dalla giungla bersaglia da parte di Siboi stavamo parlando abbiamo parlato moltissimo del fatto che comunque Poppy contribuisce e li gestisce particolarmente bene specie nelle prime fasi di partita tu hai citato il tuo trade tilterino e in effetti lo è assolutamente ho scritto le tue parole però in questo momento Eziro è in vantaggio comunque abbastanza solido di farm con due ondate sostanzialmente 12 cs di vantaggio appunto sulla Poppy di Shikari e si è vero Poppy comunque sia un importantissimo gatekeeper nelle fasi più avanzate di partita può anche fare follow up a quelli che sono gli ingaggi di Sylas di Volibear può cercare di inibire soprattutto Jarvan Quarto e per questo motivo è stata draftata nonché ovviamente anche Nautilus però comunque sia nell'uno contro uno Poppy faticherà via via sempre di più contro quell'Atrox e Atrox è già in una posizione abbastanza preoccupante ma subito Shikari con la sua itemizzazione mi zittisce perché è andato ad acquistare quel corpetto di Rovi che rimuove totalmente dai giochi per altri lunghissimi minuti quelle fonti di guarigione aggiuntive da parte di Atrox che vengono appunto in maniera in questa maniera un po' neutralizzate appunto dall'itemizzazione di Shikari che sicuramente conosce il suo campione conosce il campione dell'avversario conosce il matchup altrimenti non sarebbe andato a selezionare Poppy vedendo il pick di Atrox intanto siamo già su quel quasi nono minuto chiaramente zona la zona inizia a cuocere attorno il statietre scottante attorno a vede che ho mangiato un grande pranzo di pasta dicevo inizia a scottare attorno a quel messaggero stiamo a vedere in ogni caso perché chiaramente a mio avviso vedo tra Shikari e Siboi paradossalmente una pressione interessante ma il primo a farsi avanti è chiaramente Xeuner anche solo per quel largo granchio per avere un minimo di visione un minimo di pressione su mappa su questo guadalante superiore assolutamente sì e comunque sia questa pressione questa visione gli faranno sicuramente comodo ma è una partita comunque anche questa come la prima di oggi a differenza della seconda se vogliamo in cui ci si gioca moltissimo e l'abbiamo detto sono sono ad un exequo i quattro team di questo gruppo del gruppo C quindi Esca Gaming Bifrost e ovviamente i due team Academy LEC fanatiche BDS è chiaro che con questa partita in particolare le due squadre che hanno più da perdere forse a questo punto perché comunque hanno entrambe già battuto i due giganti sulla carta di questo team almeno per quanto riguarda i Bifrost è arrivata la vittoria sui Fnatic Team Kesso invece per quanto riguarda gli Esca è arrivata la vittoria proprio sui perdono il contrario per gli Esca è arrivata la vittoria sui Fnatic Team Kesso mentre per i Bifrost è arrivata la vittoria sui BDS quindi è chiaro che chi dovesse eventualmente alla fine andare a vincere questa partita ha a disposizione un vantaggio anche in vista della prossima settimana lo ricordiamo tra l'altro i gruppi si concluderanno con tutte le partite nella stessa giornata e poi eventuali tie break ma qui vediamo finalmente l'intervento di Siboy in Toplane e di Zero è morto eh già c'è poco da fare arriva la Deivata neanche insomma non è Deivata d'altronde la torre era lì su quel limitare ma non ha colto nulla assolutamente eh sì si espone un po' troppo qui Zero e subito Siboy puntuale preciso con l'intervento in corsia superiore lo fa secco semplicemente utilizzate le supreme sicuramente da un lato e dall'altro anche i flash alla fine la kill la prende Shikari forse avrebbero preferito su Volibear però in realtà non ti cambia veramente la vita sono due tank e tali restano anzi probabilmente su poppy ti fa anche comodo in vista del matchup diretto che deve giocarsi contro Atos occhio qui il messaggero si combatte peccato per le catene ma arriva lo smite lo prendono i T e G va bene così alla fine arriva il messaggero per loro ma attenzione un bello scambio di ki possibili è una delle catene per quanto molto cattivi Bifrost chiaramente c'era ancora l'aggressione ottimo però le catene da parte di Zero tolgono bene il bersaglio sicuramente le catene infernali da parte di Atrox qui hanno fatto la differenza hanno allontanato Siboi e gli hanno impedito l'inseguimento che cerca di protrarre Furu e i danni di Imrosco ma qui rischia un po' nulla di fatto alla fine in corsia centrale anche in Botlane si combatte con Harpoon che cerca di premere e Shikari che cerca di pulire l'ondata con la stessa cosa che succede in Toplane con la Botlane dei Bifrost che è salita vogliono scambiare evidentemente sulle placature c'era stata da parte dei Bifrost la rotazione anche per quel messaggero della landa che però è stato tenuto crucialmente dai ragazzi degli Esca che vanno anche agevolmente per questo Drago non mi è piaciuto assolutamente la rotazione macroscopica qui da parte dei Bifrost perché perdono di fatto entrambi gli obiettivi e qui rischia anche odio oh mio dio il rischio è grosso e arriva arriva più che il rischio l'uccisione grazie anche al disordone mondi si lancia avanti Zero poi chiaramente retrociare con un Seboi anche full vita e dietro un'arenata sempre meglio non rischiare è di disastro completo qui per i ragazzi dei Bifrost perché perdono anche il primo mattone oltre ovviamente al Drago della Nuvola sostanzialmente negli ultimi minuti solo i ragazzi degli Esca Gaming hanno trovato risorse si trovano infatti in vantaggio di 2000 gold proprio per effetto di quella torre quella torre così importante trovata da loro è chiaro che pesano quelle 5 placature già nelle tasche dei del loro utilatore in particolare Arpun dovrebbe averle prese tutte e 5 infatti la grafica puntuale va a evidenziare una discrepanza di 1500 gold quasi addirittura in favore di Arpun nei confronti di Odi non è questa la situazione che volevi far vivere a Jinx entrando in questo mid game anzi questa Kai'Sa può fare veramente paura non è una Kai'Sa da potere magico comunque da build ibrida perché è andata a chiudere subito quel Krakenslayer utile per andare a fronteggiare le barre di HP corpose non solo di Volibert e di Poppi ma anche dello stesso Sylas ok perché qui si combatte Eddie e come parte il team fight subito qui il povero Meron tra incudine e martello può farebbe poco o di raccogliere uccisione questa è la cosa che vi portate chiaramente con un po' di un po' di placatura anche se l'ultima per poco è stata conquistata per veramente una macciata di secondi ma in ogni caso arriva il primo mattone seppur non della partita ma almeno per i Bifrost qui pessima la comunicazione credo dei Bifrost che comunque trovano la kill occhio però il proseguo bellissimo qui rischia grosso guarda quanti danni odi l'ultimo colpo l'ospione arriva 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 l'uccisione adesso Ari si sta le cambi baffi proseguo ex a flash a disposizione della catena a vuoto ancora a vuoto quella catena a vuoto quella catena ma potrebbe arrivare addirittura a casa e infatti la vediamo molto però qui fuori a chiudere la strada di fuga ebro l'ammellamento se Maron avesse preso con l'uccisione le mazzate le mazzate eh si anche perché 2 a 0 per ari 2 a 0 per ari rivediamo l'azione eddy perché è stata anche qui abbastanza caotica l'azione che si apre con una kill su Marlon e si chiude quasi con una kill presa da Marlon che comunque partecipa con l'assist oddy qui trova risorse e non trovano però l'ultima placatura trovano sicuramente la torre i ragazzi dei bifrost poi il flash in avanti mentre si boi si stava portando all'indietro qui è mancata un po' di sinergia tra dual e si boi con la suprema di renata che comunque fa la differenza in questo frangente permette a oddy di trovare una nuova uccisione oddy che però cade crucialmente proprio con l'ignite che fa la differenza in questo caso per brosku che poi si lancia all'inseguimento mancato il charme mancata l'ancora addirittura da parte di Marlon ma semplicemente non poteva più scappare dual stava anche possibilmente arrivando lo stesso harpoon in chiusura d'azione ma non è servito l'intervento di quella che sa quindi queste sono comunque risorse trovate dal team degli esca gaming è chiaro i ragazzi dei bifrost hanno trovato una doppia uccisione nelle tasche di oddy e hanno anche trovato quella torre di corsia inferiore quindi è chiaro che hanno trovato comunque risorse e hanno di fatto sostanzialmente pareggiato la gold lead che avevano i ragazzi degli esca gaming qualche istante fa certo adesso però attenzione perché ci si avvicina al prossimo drago stiamo a vedere sì e attenzione qui all'intervento da parte di Seaboy chiuso tra l'incutine e il martello completamente in questo caso Xeunair subito facile per Reda del team dei bifrost bello l'intervento da parte di Shikeri che però rischia moltissimo alla fine in fin di vita sia lui che Marlon ma nessun altro cade in questa fase è chiaro che la caduta è di da parte di Xeunair in questo caso mette sicuramente i ragazzi degli esca in una pessima posizione vista di questo drago e poi occhio però qui parli della pesante posizione qua dual però che rischio sì qualcuno avrebbe voluto premere il griletto qua il flash o di che danni spaziali senza altro è per procedere questa è un'altra torre per i bifrost l'abbiamo detto per quanto gli esca gaming e nella loro prima vittoria ci abbiano incredibilmente sono prezzi ma attenzione a che una volta Mosco ha rivenuto dall'altra parte lui rubata con la Suprema mi chiedo perché non abbia rubato la Dixander fosse in cooldown non lo so non lo so è difficile dire quel cataclisma con Seboi nelle vicinanze Odi che comunque potrà fare DPS da fuori quel cataclisma vabbè forse era la più semplice sì è chiaro che comunque tra Roscox Euner e lo stesso Harpoon c'erano le possibilità anche di uscire dal cataclisma però sì probabilmente probabilmente sarebbe stata la scelta migliore almeno nell'immediato più che altro perché il cataclisma forse non voleva neanche teamfaitare può essere esatto sai comunque sia è vero si stava scambiando lì in corsia centrale ma gli obiettivi sono up adesso e inspiegabilmente quasi mi sento di dire si combatte per questo secondo messaggero piuttosto che per il Drago in questo caso il primo Drago di una landa oceanica quindi vedremo e alla fine credo si concretizzerà in questo caso è di lo scambio perché vediamo i ragazzi di Bifrost prendere velocemente questo messaggero della landa ma gli esca sono già quasi in posizione in realtà sono molto in ritardo gli esca e qui non possono permettersi lo scambio è su questi dettagli che una partita così importante si perde ma ci provano invece su Oliver ci ha armata finale arriva con quel charme poi il cataclino si abbatte la furia poco serve quella suprema tra l'altro forse anche un pelo tardiva che infatti lo vediamo su quel cooldown totale oltre che il death respawn questo chiaramente lascia ampio campo aperto a yesca gaming peccato perché a dirla tutta per quanto questo drago del oceano faccia comodo a yesca gaming e molti di quei campioni lo possono sfruttare dall'altro lato lo sfrutterebbero ancora meglio i Bifrost eh senz'altro Eddie per fin sai ci sono due grandi utilizzatori di questo drago uno da una parte uno dall'altra uno è Aatrox l'altro è Silas ed è vero sì che questo drago dell'oceano comunque fa comodo anche allo stesso Voliver ma mancando crucialmente quegli annientatori divini dagli inventari del team dei Bifrost non c'è tutta la rigenerazione che altrimenti avrebbero disposizione dalla loro parte e quindi di fatto è una situazione che vede entrambi i team volersi scomodare il giusto per andare a prendersi quest'anima più per la forza dell'anima in sé che veramente per appunto quanto sia sinergica con la tua composizione anche Aria è vero la utilizza abbastanza bene in particolare ovviamente se i due di Carrie andranno a prendersi fonti di rigenerazione di vita di lifesteal in particolare ecco che l'anima dell'oceano veramente assumerebbe un grande valore ma per il momento tolti Aatrox e Silas nessuno veramente stravede per quest'anima e per questi draghi di conseguenza è molto più succoso e di sicuramente questo Barone Lusher che è arrivato adesso da una quindicina di secondi sulla landa degli evocatori e subito i ragazzi degli Esca vanno a prendere possesso di questa zona possesso strategico di visione in particolare con Jarvan e con Ari nonché con Nautilus ovviamente il peak potential di cui dispongono gli Esca è enorme e l'hanno già fatto vedere in altre occasioni in questa partita ma dall'altra parte vediamo questa evocazione del messaggero della landa che potrebbe iniziare di fatto un teamfight vediamo se riescono a tirarlo giù non la testata arriva e così la torre è lato Bifrost non lo so non lo so è così close in realtà ancora la partita che non voglio neanche troppo spormi perché generalmente a questi 20-21 minuti possiamo già avere del vantaggio consistente anche solo di quelle 1000-2000 unità d'oro poi in scattura un teamfight arriva un barone e si chiude la faccenda ma il fatto che a stento ci siano 1000 gold a differenziare le due squadre e non solo c'è una netta distribuzione soprattutto lato Bifrost su Jinx un po' su Seaboy dall'altro lato su Ari e un po' su Harpoon non lo so non lo so sono davvero molto close perché abbiamo visto Odi si è messo in condizioni cosa può fare d'altro canto gli Esca Gaming però hanno un interessante combo di Bifrost che non puoi assolutamente sottovalutare con quello Charm l'inserimento anche di Marlon la superma stessa Harpoon con l'estito omicida Xander con il proprio cataclisma non è una situazione semplice ma è anche vero che hanno quel grilletto una volta sparato devi essere bravo non solo a resistere ma poi a rispondere no senz'altro Eddi sai dipenderà molto da chi avrà il controllo della visione in vista dei prossimi obiettivi neutrali l'esito di un teamfight perché il team che si presenta in vantaggio può anche offendere a piacimento oppure può girarsi sull'obiettivo non ci sono in realtà grandi fonti di pochi in questa partita a differenza di quella precedente magari dove abbiamo visto un Jace comunque comparire sulla Landa e anche un Corky questa volta sono veramente due composizioni che vogliono soprattutto teamfightare vogliono trovare i reset da una parte dall'altra di Ari e di Jinx e vogliono trovare quelle di generazioni con Atrox con Silas la differenza forse è il fatto che gli Esca Gaming vogliono soprattutto ingaggiare e non possano veramente disingaggiare dagli avversari una volta premuto il grilletto invece i Bifrost con quei due tank in particolare con Poppy possono un po' dettare di più i ritmi dello scontro almeno sulla carta con quella presenza ferrea che può andare a negare sia un engage che un disengage eventualmente e può essere veramente un ottimo strumento anche contro quella Ari in late game con una giocata magari col flash da parte di Shikari che poi può bloccare addirittura uno scatto uno scatto appunto dell'assalto spirituale è bravo fu lui qui a frapporsi tra se stesso a controllare il colpo esatto tra il cercatore del vuoto e il blue buff per evitare scudo protezione esatto la città di Quartz viene protetta e poi però adesso si combatte per il drago è di 30 secondi e si boi e rischia ma ma no tranquillo tranquillo su sommato la posizione di Zero funge anche un po' d'inserimento ma qua cercano di fare il colpo gombo mi piace mi piace questa cosa da parte di Esca Gaming d'altronde non c'è grossa visione e vuoi forzare il famoso balletto che fa il drago faccio barone certo però c'è il santuario di Giorgio ancora a disposizione dei ragazzi dei Bifrost in quel fiume topside e di conseguenza non possono insistere veramente sull'obiettivo dei ragazzi dei D&G però ecco il problema veramente è che in questi team fight credo che Odi possa avere un impatto enorme segnolato dagli avversari e eccoli qua infatti sono richiamati ci va per il trade barone più drago i danni ci sono però eh riconosciamo ricordiamo Harpoon i danni basta avanzare infatti qui addirittura arriva Furui ottimo però qui lasciarli danni su Siboi costretto alla Suprema per la Fule di Fuga questo è molto importante perché se non era vero ha preso un po' di danni ma potevano abbassare presenza ferrea ottimale Suprema su Dual serve il raddoppio eccolo qui il knock up arriva lo Charm bei danni se non arriva in stasi danni che però non bastano Harpoon la Suprema da parte dual fondamentale Odi trovo l'uccisione e Kodi il secondo reset guarda Lodi guarda che triple kill per Odi vento 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 eh no no Harpoon è troppo lontane non si farà togliere arriverà così tempo però dietro qui sintomicida Harpoon se non altro conclude su Dual ma signori è barone per i Bifrost proverà Harpoon a volare verso il drago ma Shikari saggiamente sta già dirigendo verso quella zona per poter fare barone più drago e magari qualche resetto ma perché infatti perché scegliere tra un obiettivo solo quando puoi procurarteli tutti e due eddi bravissimi qui ragazzi dei Bifrost a trovare le risorse giuste a permettere a Odi di correre come un pazzo l'ingaggio da parte degli Esca su Renata e su Poppy sicuramente non i membri principali guarda Odi completamente ignorato esattamente come avevo descritto questo è il peggior scenario possibile per i ragazzi degli Esca e il flash in avanti addirittura di Odi per chiudere con la triple kill che poi diventa quadra io io ci speravo dopo aver visto la la prima pentakill di questo U Masters proprio con te qui al caster desk eddi ogni volta che vedo un'azione così un'ampolica mi aspettano il massimo risultato però non è per tutti i giorni però il pass dopo quella di Zilean mi ha contento di chiamarle carneficine mi è bastata quella di Zilean sì diciamo che più unica che rara uuuh occhio però qui bravissimo Shikari una presenza ferrea ma che dico una determinazione ferrea quella che ha portato una facile uccisione su Xeoner complice anche chiaramente tutti i cc che lo stesso Xeoner si è preso in faccia compresa la sua pronuncia di Shikari che poi ha permesso a Odi con il defacimento un'altra uccisione 723 Odi mamma mia come si vola con quel triplo oggetto sì Odi fa paura il morto il lord Dominic i saluti lord Dominic che si fanno sentire ora più che mai la poca con la città di alcuni membri come Harpoon e Mosco soprattutto sì soprattutto il frammento di infinito che adesso fa la differenza perché quel moltiplicatore online le torri del Nexus del team è che invece non lo sono più doppio carretto difendibile ma neanche troppo devono chiaramente retrocedere ma servendo un'altra andata i colpi ottima presenza ferrea Odi un altro reset guardalo full vita con gli scudi al sicuro Harpoon potrebbe fare qualcosa Xeoner si lancia dentro c'è la Stasi ma non ci sono i follow up per i danni ancora una volta Harpoon ci prova arriva un'altra un'altra uccisione per Odi stesso hai il segmento Siboi l'ultimo colpo arriva la Q finale e adesso Zero unico ridipivo e signori con quest'ultima uccisione di Odi con la triple kill la carneficina e il punto per i Bifrost che superano di Esca Gaming e che bella vittoria che bella vittoria questa da parte dei Bifrost continuo ad applaudire proprio come fai tu e non ci siamo messi d'accordo non ci siamo messi d'accordo bella vittoria e comunque sia una vittoria non solo bella anzi tanto bella quanto importante questa per i ragazzi di Bifrost perché così si portano addirittura in testa la classifica del loro gruppo credo che dopo tre giornate avrebbero messo la firma per un risultato di due a uno i ragazzi dei Bifrost entrando in questo gruppo vedendo che avversari potevano esserci di fronte a loro con quel team dei Fanatic che so con l'academy dei BDS e con questi Esca Gaming che comunque hanno venduto caro la pelle anche oggi davvero solo applausi per i ragazzi dei Bifrost che anche con due ex PG Nationals stanno comunque tenendo alto un po' la bandiera del nostro circuito competitivo ma davvero davvero una bellissima partita da parte loro nei team fight un'esecuzione migliore una un'allocazione di risorse anche migliore già a partire dalle game con quelle prime kill trovate fin da subito su Jinx è stata una bella vittoria è stata una vittoria convincente per loro hanno giocato soprattutto molto meglio il macro dei loro avversari sono riusciti alla fine a trovare la maggior parte degli obiettivi neutrali i ragazzi degli Esca avevano anche probabilmente uno scaling peggiore dalla loro parte perché quella Jinx non poteva essere pareggiata in nessun modo in effetti quando Jinx ha chiuso il terzo oggetto abbiamo visto i danni che è riuscito a tirare giù Odi non c'era veramente più partita nelle ultime fasi lo scaling troppo dominante per la tiratrice protagonista anche di una serie che forse avete sentito nominare su Netflix Arcane se per caso ve la siete persa cosa difficile se siete qui però comunque magari qualcuno non la vista andate recuperare vediamo in ogni caso bella partita sicuramente dal punto di vista di un team come quello di Bifrost che ha avuto anche diversi problemi tutto sommato fin dall'inizio di questo 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 è solo quanto che abbiano vinto perché se un altro mi danno ancora un pochino più di ragione su quello che ho detto prima ancora e iniziasse la partita quindi molto prima del risultato sono forse uno dei pochissimi team del play-in che overall sulla carta non sembrano essere così alla pari con gli altri ma che stanno contando a dimostrare che hanno veramente tanto carattere da vendere in campo e fuori detto questo però signori come sempre pausa e torniamo qui su Bifrost per il proseguo di Europa Masters per il risultato Grazie.